A me pare di capire anche alla luce dell'analisi appena illustrata che siamo d'accordo che i pescatori europei hanno bisogno di norme chiare, efficaci da parte di questo Parlamento e quindi da tutta l'Unione Europea. Quindi un approccio rigido, uguale per tutti, il cosiddetto one size fits all approach non funziona, non funziona soprattutto nell'ambito della pesca perché questo vorrebbe dire ignorare la biodiversità dei nostri mari e le varie specificità delle nostre flotte. Io in particolare tengo a cuore la sorte dei piccoli pescatori e quelli del Mediterraneo. Mi pare di capire anche che la Commissione è concorda nel dire che sono un baloardo, sono i veri guardiani del mare e quindi bisogna tutelarli. Qui però sta poi a noi, dal punto di vista politico, utilizzare tutti i mezzi e quindi soprattutto il FEAMP che andiamo a discutere a breve in trilogo per poterlo al meglio utilizzare perché io ho invece contezza, contrariamente a quanto leggo dall'analisi, che è poco utilizzato, male e non soprattutto per aiutare i pescatori. Faccio un esempio su tutti, è mia notizia che in una regione del Mezzogiorno d'Italia la regione sta utilizzando a fondo perduto ben 400 mila euro dei soldi dei contribuenti per rivitalizzare, rigenerare un'area urbana a fondo perduto, quando per i pescatori invece si crede sempre un cofinanziamento e una quota parte molto inferiore rispetto a questi 400 mila euro. Poi, andando nello specifico nelle domande, io leggo che 18 stati su 28 hanno inviato relazioni sugli obblighi di sbarco e quindi volevo chiedere quali sono questi 10 stati membri che non hanno dato le relazioni e con quali motivazioni. Poi, in generale, vedo molta attenzione, molti grafici su tutti i mari, tranne o meno poco sul mar Mediterraneo. Può essere un caso soltanto relativamente ad oggi, poi magari la Commissione ci fornirà una specifica attenzione sul mar Mediterraneo. Un'ultima notazione sulla occupazione, che io leggo per la Commissione essere in aumento. Non mi risulta, specialmente per la piccola pesca, è nel Mediterraneo. Si parla anche di prezzi di carburante che si abbassano, anche a me questa è una falsa notizia. Se poi dovevamo parlare dell'Italia, i prezzi sono in aumento, in Italia è il prezzo più alto in Europa, il costo più alto in Europa per il carburante. Quindi chiedevo maggiori approfondimenti. Ecco, l'onorevole Damato ha fatto una domanda sugli obblighi di sbarco. Avete già detto che l'ottemperanza è ben lungi dall'essere perfette in questo campo. E mi sembra di capire che, in base alla politica comune della pesca, una volta che c'è un accordo sulle TAC, gli Stati membri hanno un'attac maggiorata per tener conto di questi nuovi obblighi di sbarco e sui rifiuti. Mi sembra sia così, no? Grazie per tutte queste domande. Inizierò dall'ultima domanda e anche dalla domanda dell'onorevole Damato. Per quanto riguarda l'obbligo di sbarco, al momento della pubblicazione della dichiarazione politica non avevamo ancora ricevuto tutti i rapporti. Adesso abbiamo ricevuto quasi tutti i rapporti e i paesi on clave come Lussemburgo, Austria, Cecoslovacchia, evidentemente non devono inviare dei rapporti. Posso anche confermare, in linea con la sua ultima domanda, che tutti gli Stati membri che sono interessati all'opportunità di pesca hanno inviato i propri rapporti sugli obblighi di sbarco. Per rispondere alle altre domande dell'onorevole Damato, un chiarimento per quanto riguarda l'occupazione e i salari. Certo, sì, lei ha ragione per quanto riguarda l'occupazione. In effetti, quello che abbiamo visto nell'ultimo decennio è un calo nell'occupazione del 2-3% all'anno nel settore della pesca. Per motivi naturali, pensioni, invecchiamento del settore, ma anche una riduzione nella capacità della flotta. Però si assiste a un aumento dei salari, quindi la quantità dell'occupazione diminuisce, però la qualità dell'occupazione migliora ed è anche importante. Per quanto riguarda i prezzi del carburante, noi abbiamo esaminato quello che è successo negli ultimi decenni. Siamo partiti dall'apice della crisi del carburante e c'è stato un calo nei prezzi. Lei ha ragione, onorevole Damato, nell'ultimo anno c'è stato un lieve aumento del prezzo del carburante. Naturalmente ci sarà un effetto sulla redditività del settore, però sappiamo che la flotta si sta adeguando in modo strutturale per conformarsi con i prezzi energetici e del carburante.